Allora io? Todos tenemos tres vidas. Quindi voi mi state dicendo che nessuno di noi ha segreti. Ah, eh, no, no. Il segreto ci vuoi. Magari, ci conosciamo tutti a memoria. Una pubblica. Ok, allora facciamo un gioco. Mettiamo qua tutti i nostri cellulari. Una privada. Tu fai? Eh, per la durata della cena, messaggi, whatsapp, telefonate, leggiamo e ascoltiamo insieme. Tanto noi non abbiamo segreti, no? Ora ti spiego. Ma che vuoi spiegare? Questo ha scritto c'ho voglia di scopare. Tante volte puoi essere il T9, eh? Che cazzo dici per te? Da l'età a me, sei troppo innamorato di mamma per capire quanta stronza. Gli ho trovato un pacchetto di preservativi nella borsa. Oh, se capitasse a Rosa. Amore, Rosa compie sei anni a giugno. Io non lo so mica se sarei una brava mamma. Ma perché sei incinta? Oh, allora la vostra! Non c'è ancora niente da brindare, Carlotta. C'è il fatto che qualcuno scopa. Questi cosi ci stanno rovinando l'esistenza, ci stanno portando via il privato. Io se hai un amante non lo voglio sapere. Parla, parla, sono i tuoi migliori amici. Magari anche loro vogliono sapere, no? E' un bagno che finiamo come Barbie e Ken. Tu, tutta rifatta e io senza parla. Dammi quel telefono. Dammi quel cazzo di telefono! Gioca. Siamo amici da quando siamo ragazzini. Ma vuoi dire chi sei? Oh, mi dici da quanto tu una? Riccata. Steve Jobs. Ma non era morto. Invece se era vivo chiamava mia moglie. No. Hebat. Il troppo. Il troppo. E l'altro. Il troppo. Ma voce. Il troppo.